Villa Laura è una residenza sanitaria specializzata nell'assistenza di persone inabili, portatori di handicap e anziani non autosufficienti. La struttura, dotata di 61 posti letto, tutti convenzionati con l'azienda sanitaria di Firenze, offre la possibilità di soggiorni di lunga e breve digenza, soggiorni post-operatori e post-traumatici e soggiorni di sollievo alle famiglie. A disposizione degli ospiti, il servizio medico-geriatrico, l'assistenza infermieristica 24 ore e il servizio di assistenza psicologica, svolto da personale qualificato e attento alle esigenze di ogni ospite. Di recente realizzazione, Villa Laura è stata concepita con le più innovative tecniche costruttive ed impiantistiche nel rispetto degli ospiti. Arredata con stile ed eleganza, la villa è circondata dal verde ed ha un ambiente sereno e rilassante ed è in grado di offrire ai suoi ospiti un piacevole soggiorno in un luogo accogliente, ospitale, sicuro e affidabile. Durante l'arco della giornata vengono svolte attività di ludoterapia, terapia occupazionale e fisioterapia che favoriscono una maggiore socializzazione e contribuiscono ad una migliore qualità di vita dei singoli residenti. La cucina interna alla struttura prepara i pasti nel rispetto dei bisogni dietetici degli ospiti e secondo le prescrizioni del medico.